E' qui a fare il provino per questo film? Spera di essere presa? Speriamo, penso che tutti quelli che siano qui pensano di essere presi. Ha già fatto esperienze di questo tipo in passato? No, no. E' la prima volta? Come sei preparata per questo provino? E' normale, penso che la semplicità sia la cosa migliore. Spera di essere presa e ha sempre seguito i film di Pozzetto. La speranza non finisce mai, poi Pozzetto è stato il mio idolo da quando sono piccola, innamoratissima, proprio da piccolina. Sarebbe un sogno essere presa per questo film. E' la prima volta che mi alzo alle 7 di mattina di conseguenza, è un sogno. Niente, perché mi va di contribuire per il mio paese farmi vedere con gli altri miei compaesani. L'hai sempre seguiti i film di Pozzetto? Ma ce ne ho qualcuno, però niente di che. So che mi ha fatto anche le diverse alla Veno, girati. Ma speri di diventare un attore? No, no, assolutamente. Facciamo fare ad altri, ma che è meglio. Ha già fatto dei provini in passato? Ha già partecipato a dei film? Sì. Quindi questo è un'ulteriore prova? No, mi hanno chiamato. L'hanno chiamata, spera di essere presa. Va bene, se fosse così va benissimo. Le piacce dei film di Pozzetto? Sì. 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 Sì.